Per quanto riguarda Reggiani c'è un dato importante, un'informazione importante ce l'ha data la Procura di Roma alla quale va il mio personale applauso e ringraziamento. Hanno lavorato tantissimo, hanno dimostrato una capacità investigativa incredibile. Da quello che abbiamo potuto apprendere abbiamo degli elementi che denotano un quadro probatorio, indiziario, probatorio, adesso non voglio entrare nel tecnico, che ha una certa solidità e comunque consentirà con tutte le verifiche e le garanzie del caso che il nostro ordinamento offre di poter celebrare un processo, un processo italiano, interamente italiano, con le nostre regole, con le nostre garanzie con la nostra capacità che esprime il sistema giudiziario per assicurare la verità su una morte che anche dagli ultimi dettagli si è rivelata assolutamente avvenuta con modalità efferate e particolarmente cruente e crudeli. Vogliamo la verità e continueremo come Governo a operare tutti quei passi necessari e funzionali per ottenere questa verità e valuteremo qualsiasi altra iniziativa che possa essere comunque in questa logica utile e comunque complementare rispetto a questo obiettivo, rispetto alla giustizia che dobbiamo a questo nostro ragazzo, ai suoi familiari.